40 cantine, 35 stand gastronomici, 3 masterclass e 3 cene stellate e ancora 5 talk. Ecco in sintesi la settima edizione di Chianina e Sirà. Anche grandi pillole, anche grandi novità. Avremo in esposizione l'ultimo modello della Ferrari per le 3 cene di gala, una sezione dedicata ai bambini con Chef Shadi e l'Amburgotto e una sezione dedicata al gelato guidata da Stefano Cecconi della gelateria Cecconi di Arezzo ma anche pasticceria, alta pasticceria con i maestri del lievito madre del panettone con Stefano Cecconi e Paolo Rufo. Quindi una manifestazione sicuramente incredibile che porterà in tre giorni dal sabato al lunedì un gran volto pubblico nella nostra città. Per noi come amministrazione è importante andare a valorizzare tutte le tipicità del nostro territorio e questi sono due emblemi, la Chianina abbinata al Sirà, un binomio perfetto che grazie al consorzio Vini di Cortona, grazie alla partecipazione di Terre Etrusche e grazie all'appoggio sempre presente nell'amministrazione avrà una valorizzazione e pubblicità a livello nazionale e internazionale. Quest'anno oltre a degustare i vini in una maniera professionale, in un ambiente straordinariamente bello come quello del Sant'Agostino ci sarà anche la possibilità di acquistare le espressioni che poi ognuno magari testando avrà voglia di portarsi a casa. Vi invito quindi a venirci a trovare sabato prossimo e domenica al centro Sant'Agostino per assaggiare tante straordinarie espressioni di Sirà e magari portarsi a casa quello che più vi piace. Grazie.